eccomi qui a un'ora e mezza dall'inizio della mia gara 1500 qua ci sono 33 gradi e mezzo e siamo completamente sotto il sole la mia gara era prevista per le 4 e un quarto invece adesso ho visto che dovrei partire alle 5 mi sono rimesso in macchina per non stare sotto il sole visto che non c'è un angolo di ombra è andata bene primo di categoria campione regionale primo anche di batteria aspetto la premiazione ed eccoci qui domenica a godermi la mia maglia di campione regionale sui 1500 ieri è stata una gara difficilissima perché il mio avversario diretto era molto forte mi ha costretto a fare gli ultimi 200 metri a 3 quindi mi ha davvero fatto sudare tantissimo e più tardi tra qualche ora si parte per cattolica eraclea per la prossima gara a 24 ore dalla prima vediamo come andrà speriamo bene incrociamo le dita ciao 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 ciao